Il primo è la sede del bacco e calore. Ho pensato molto a questi due giorni. A noi due, voglio dire. Davvero? In quanto a ricordi avrai avuto l'imbarazzo della scelta. Non è solo questo. Sinceramente mi vergogno un po' a dirlo così, ma... tu in qualche modo sei stata la donna della mia vita. E tu l'uomo della mia. E pensavo anche che questa forse è l'ultima volta che stiamo insieme da soli. Salvo le scappatelle che faremo due volte l'anno. Naturalmente. È buffo, uno decide di sposarsi. E poi... E poi quando arriva il momento ci si scorda di aver fatto questa scelta. io e te... non... nelle storie che abbiamo avuto con altri non usavamo spesso le parole ti amo, non è vero? Kim dice che se ami qualcuno devi dirglielo devi dirglielo subito è forte altrimenti poi il momento... poi il momento passa sì... 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 non abbiamo la nostra canzone credi che sia un brutto segno? sì... sì... sì...